Il tempo non è dei migliori, ma stiamo assistendo a una splendida giornata di sport qui a Cazzago. Tocca ora agli atleti della categoria G3 che si schierano sulla linea di partenza. Cuore in gola, che tu stia sola, lo so un peccato, ce l'hai un minuto, guarda non morto, dammi uno sguardo. Io sono un funky carro, doc, tipo a stop, con me non devi farla snob. Dai salta su, hop, sulla jeep, sentirai il profumo che ne sei a brema e chic, come i bersani sono un freak. Tarro e tatterro con lo sguardo, sono trash come la Marini e Adriano Popolardo. Io sono quello che impennava con il ciao, con la maglietta degli squallo rarra pao. 3, 2, 1, via! In bocca al lupo ragazzi, per voi sette giri in programma. Io sono un porco, sono un balordo, faccio rime giù in città. Senza pudori, ne riguardo, sono un fan chitarro. Nonostante l'andatura elevata, il gruppo è ancora compatto e nutrito di un buon numero di elementi. Parole mai mi accordo, abito un cuore e beve perché sono qua. Tarro! Mi metto a petto nudo nella musical, non sono più tifo, ma c'ho il physique du role. E faccio gara alle giostre col pungibone, come faceva Terence Hill. Ho l'orologio di Topolino, comprato l'autogrill, lo porto sul polsino, non neve Verley Hills. E tosto dove vivo, bella mia, sono il tipico tamarro di periferia. Gli atleti già si studiano. Nelle prime posizioni troviamo Monteclarense, Valle Sabbia, Team Extreme, Valle Camonica e Ronco. E' ora un atleta del Team Extreme a cercare di andarsene. Dietro però Monteclarense, Valle Sabbia e Otelli non mollano la sua ruota. Siamo già al traguardo ed è Perini Christian della Monteclarense che vince a braccia alzate. Dietro di lui i compagni di squadra Peveroni Marco e Cesaro Nicola. Seguono Zanni Simone della Valle Sabbia e Scaroni Christian della Otelli. La classifica femminile vede primeggiare Bettenzana Vanessa della Ronco davanti alla compagna di squadra Gasparini Erika. Terzo posto per Bonsigiada della Bornato.